Bella ragazzi io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite Raga, leggete qua sotto, tempo di inattività programmato La sospensione del servizio per la patch 8.50 inizierà alle 10 Central Europe Time Ciò significa che oggi alle 11 del mattino avremo la patch tanto attesa Che cosa verrà implementato in gioco tramite questa patch 8.50? Per prima cosa ragazzi vedremo quella che è la collaborazione tra Fortnite ed Avengers Più altre cose come ad esempio una nuova modalità di spectating Per quanto riguarda la sessione eventi che adesso si chiama competi nel menu Infatti da lì potremo scegliere quale partita del torneo guardare E osservarla tramite quelli che sono i comandi utilizzati anche nella modalità replay Altre info a riguardo poi le scopriremo nella patch note tra pochissime ore Ritornando alla collaborazione tra Fortnite ed Avengers Abbiamo visto che tre giorni fa è stato rilasciato il primo teaser Questo andava a raffigurare il bombarolo lucente con uno scudo Che ovviamente appartiene a Capitano America Nel secondo teaser invece vediamo lo Stormbreaker di Thor Impugnato dal nostro amatissimo pesce secco E ieri finalmente è stato rilasciato quello che è l'ultimo teaser Quindi il terzo Dove appunto vediamo rapace semi Iron Man Diciamo così Infatti possiamo vedere che indossa la parte degli avambracci e dei guanti Dell'armatura di Iron Man Ma al momento ragazzi non si sa che cosa verrà implementato in gioco Anzi io ho seriamente paura di aprire il negozio oggetti tra pochissime ore E trovarmi qualcosa di veramente assurdo al suo interno Come abbiamo visto nelle settimane precedenti ragazzi Sono stati caricati determinate eventi e determinate sfide Abbiamo visto l'evento dei pirati Dove tramite questo potevamo ottenere degli oggetti in gioco completandole In più poi sono uscite ovviamente anche le skin dei pirati nello shop Stessa cosa è avvenuta la settimana seguente Modalità aviazione in gioco Sfide da completare al riguardo E ovviamente skin nel negozio oggetti Dato che è stato trovato un file dove ci sta scritto LTM che sta per Limited Time Mod Ovvero modalità a tempo che si conclude poi con End Game Molto probabilmente quest'oggi ci potremo trovare delle sfide da completare Riguardanti gli Avengers Proprio come è successo un anno fa con la bellissima mod di Thanos Cento players che dopo essersi lanciati dal bus Erano tutti quanti in cerca del guanto di Thanos Ti conferiva dei poteri straordinari quali mega salto Dei colpi a distanza ravvicinata che erano devastanti E poi si poteva sparare anche tramite quello che era il guanto stesso Non vedo l'ora di scoprire quali sarà la modalità a tempo di quest'oggi Intanto anche su Twitter la Epic Games ha postato questo tweet Riguardante la patch 8.50 Il quale dice Snap e poi Balance will be restored A cosa si riferisce? Secondo voi fatemelo sapere qua sotto tra i commenti In ogni caso andremo a scoprire tutto ciò che c'è da sapere su questa patch e sugli Avengers Nella live che seguirà tra poche ore Vi aspetto tutti quanti ragazzi Mi raccomando non mancate Cominciate a lasciare un bel like a questo video Fatemi sapere qua sotto tra i commenti Se sciopperete qualcosina riguardante questi Avengers Si spera che uscirà appunto la skin Con quello che è il mio codice creatore JKR Martex Detto questo ragazzi Il video è stato brevissimo Volevo solamente informarvi con queste poche cose Dato che appunto c'è pochissimo di cui parlare Si hanno pochissime news Ma lo shop mattutino boys Non poteva mancare Quindi andiamo a cliccare su negozi oggetti E vediamo che cosa c'è quest'oggi Questo è lo shop di oggi Ragazzi notate qualcosa di strano Non vi nego che se alla destra del bombarolo lucente E del rapace Avessimo trovato quello che è pesce secco Ci sarei rimasto un po' così a bocca aperta Infatti la prima e la seconda sono le skin presentate Tramite quelli che sono i teaser degli Avengers Non so potrebbe essere una coincidenza Ma è veramente strano che le abbiano droppate Proprio quest'oggi nel negozio Quindi che cosa abbiamo qui quest'oggi? Rapace 2000 V-Bucks per questa top skin L'abbiamo vista nel teaser Con questa parte in particolare In versione Iron Man Abbiamo poi il piccone animale da festa Ascoltiamo il suo suono Madò Mi piace sempre di più questo piccone Poi abbiamo il bombarolo lucente 1200 V-Bucks per questa skin Che è simbolica ragazzi Il bombarolo lucente si può dire Che è una skin simbolica di Fortnite Chi non conosce questa skin Il suo piccone colpo Arcobaleno Ascoltiamo subito il sound Magico E' un piccone reattivo Ciò vuol dire che si ingrandisce Ogni volta che fate delle kill in gioco Sempre sulla destra poi abbiamo Leader delle squadra coccole 2000 V-Bucks per questa skin Un bellissimo orsacchiotta Assieme a quello che è il suo backpack Il piccone Ragazzi mi ricorda ancora il sound E' fantastico 800 V-Bucks per zampa coccolosa Vediamo un pochettino Ok E mi sarei aspettato però Quest'oggi con questo set Quello che è il deltaplano Ma purtroppo ragazzi Non è uscito Sui oggetti giornalieri Abbiamo Breakdance 800 V-Bucks Che sarebbe la prima versione Di questo emote Molto bella Soprattutto con questa skin Devo dire Ascia spettrale 800 V-Bucks Anche per questo piccone Che mi piace un sacco ragazzi Se non avete comprato La galaxy skin Questa è un'alternativa Per quanto riguarda il piccone Poi abbiamo Armadillo Skin da 800 V-Bucks Che non mi convince ragazzi Non mi convince Skin non comune Ma purtroppo Assassino Artico invece 1200 V-Bucks Per questa skin Che in gioco Fa paura vederla In basso a destra Poi per concludere Abbiamo due item Da 500 V-Bucks Un emote Ed un deltaplano L'emote si chiama Una vita al massimo Ed è questa qui La vita È bella Carina carina E poi Agganciato Il deltaplano Di sempre centro Ragazzi Il video di oggi Si va a concludere qui Io spero che vi sia piaciuto Se così fosse Vi invito a lasciare Un bel like Condividetelo Con tutti i vostri amici Noi ci becchiamo Molto ma molto presto Un salutone da Martex Ciao Ciao